ascoltiamo le sensazioni che vengono dal corpo lo stabilizziamo il respiro la struttura poggiamo le mani sui reni cerchiamo di respirare dentro i reni avendo la percezione che essi si gonfiano e si sgonfiano lasciamo andare il respiro fluido ora facciamo un bel respiro dentro i reni e poi espiriamo scendendo con le mani sulle fasce esterne percorrendo anche i piedi esternamente e risalendo sulle fasce interne inspirando flettendo l'arco della schiena in modo inverso espirando inspiriamo riempiamo i reni è importante questa immagine dei reni che si riempiono espiriamo rilasciamo corpo morbido scende sulle fasce esterne risale su quelle interne e flettiamo espirando inspiriamo inspiriamo espiriamo inspiriamo espiriamo 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 inspiriamo espiriamo 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 libera il corpo libera il corpo anche morbide lombi morbidi inspira timore atto perfett e potenzial gi narc u tong u sua